Al momento una crisi profonda senza via d'uscita. Sabato prossimo ore 17.30, scontro diretto in casa del neopromosso Cerignola, arriva l'azione del Girone C. Sarà lo snodo decisivo soprattutto per Alberto Colombo. Circolano i primi nomi, come è accaduto spesso negli ultimi anni, quello di Zeman, ma in caso di esonero ci sarebbe anche l'ipotesi Andrea Camplone. Secondo talune indiscrezioni, Colombo avrebbe rischiato l'esonero nell'immediato post-gara col Giuliano. Poi sarebbe rientrato tutto. Sarà però fiducia a tempo col Cerignola, dunque il tecnico Lombardo. Si giocherà la panchina. Un autentico crollo a certificarlo i numeri. 35 punti nelle prime 14 giornate, appena 13 nelle successive 14. Metamorfosi davvero incredibile. Dopo le prime 14 gare, alla vigilia del match con Catanzaro, i biecazzurri vantavano 17 punti di vantaggio sul Foggia, ora a meno 5. 15 sul Cerignola, addirittura 21 sul Picerno, entrambe ora a meno 6. In una ipotetica classifica degli ultimi 14 turni, il Pescara sarebbe quart'ultimo con 13 punti in piena zona play-out. Altresì marcata la differenza reti. Più 19, 27 gol fatti, 8 subiti nelle prime 14 giornate. Meno 8, 13 gol fatti, 21 subiti nelle successive 14. A Cerignola marcheranno visita, plizzari per la squalifica, gli infortunati De Sogus, Gozzi, il lungodegente Pellacani, oltre a Craia che a causa di uno stiramento al polpaccio salterà anche le prossime due o tre partite.